segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te guarda io ti stupirò ma io penso che elli stia facendo la cosa giusta per la sinistra cioè era normale vedere la sinistra al governo con draghi vede no non è anormale vedere la sinistra all'opposizione di un governo conservatore e quindi se se lei riesce senza devastare il suo partito a ridare al partito al pd l'identità di un partito di sinistra radicale quale è beh questo peraltro poi aprirà delle aprirà degli spazi al centro dove potranno confluire anche chi oggi è nel pd non essendo sostanzialmente di sinistra no quindi io lo vedo anche come un'operazione di chiarezza non so se riuscirà se gli riuscirà questo giochino ma insomma non me la sento di dire che non sta facendo il suo mestiere è un auspicio quello di alessandro è un fatto quello al momento